Buon pomeriggio e ben ritrovati cari amici di Teleprima. Per questo appuntamento quotidiano di Gossip Mania, prima di tutto ciao Elvira. Ciao Alessia, ben ritrovata finalmente. Ben ritrovata a te, abbiamo tantissimi argomenti anche oggi, lo avevamo detto che saremo ritornati un po' sul fil rouge dell'amore, ma non solo, qualche anticipazione, un po' di riassunto generale su alcuni personaggi, quindi c'è veramente tanto di cui parlare anche oggi. Sì, diciamo che l'amore è il filo di un lettore, come hai detto tu, però non solo, insomma. Dietro l'amore ci sono tante cose che si nascondono, l'odio, la polemica, i pensieri, quindi insomma c'è tanto da dire. Polemiche sempre tantissime all'ordine del giorno, quindi ci permettono di inciuciare, di chiacchierare, sempre di più possiamo dire. Iniziamo quindi dal nostro primo argomento, ci manteniamo abbastanza sobri per il momento e soprattutto vi raccontiamo una storia, una storia che parte da lontano, di una poi delle showgirl più amate veramente dal pubblico italiano, ma davvero in tutta Italia. È ritornata proprio ieri sera in tv, parliamo di Michelle Hunziker, bellissima, 44 anni, ma veramente sempre splendida, che ha parlato proprio dell'inizio della sua carriera, che non è stata facilissima. Diciamo che è un po' il percorso simile che hanno avuto tante starlette. Diciamo che quando si è belle e soprattutto si è una bellezza rara, perché nel suo caso insomma è una svizzera doc, sicuramente insomma fa parlare anche il modo in cui si diventa famosa. Il problema insomma dei personaggi di queste showgirl è sicuramente questo, che all'inizio non si capisce bene il ruolo all'interno appunto del mondo dello spettacolo, perché fanno un po' di tutto. È solo poi con il tempo e l'esperienza che riescono a trovare il proprio percorso. E' stato proprio il caso di Michelle. È verissimo, infatti si è raccontata, ha detto all'inizio della mia carriera, ho avuto qualche difficoltà, perché pensavano fossi soltanto bella e magari anche un po' stupida, collegato molto spesso anche al fatto di essere bionda, che dicono le bionde svampi, che brutta gente, possiamo dire, che veramente luoghi comuni esagerati. e scherzando su questa cosa ha detto ho dovuto dimostrare il doppio, ho dovuto lavorare il doppio, anche perché ero veramente molto molto giovane, subito legato ad un personaggio poi molto conosciuto in Italia, ero stramazzotti e quindi ho dovuto farmi strada in maniera anche decisa e forte nel mondo dello spettacolo, anche con una certa autonomia. E diciamo che questo le fa onore, anche perché ha iniziato facendo la pubblicità di un noto marchio di slip e da lì, insomma, piuttosto che conoscere il viso, si sono poi conosciuti altri aspetti del suo fisico, diciamo così. Però poi ha dato modo, insomma, di verificare anche le sue competenze e questo aspetto è venuto fuori poi col tempo. Devo dire che forse per il suo modo di fare non è apprezzata dalla maggior parte del pubblico, però sicuramente è un modo scherzoso, diverso, di condurre un programma che le ha permesso poi anche di entrare nel cuore anche di Gerry Scotti, perché sono legati da una profonda amicizia. Ma è davvero così nella vita? Cioè, almeno sembra anche da ciò che si vede sui social, è sempre molto briosa, sempre sorridente, naturale, non è artefatta, non è formale anche quando racconta le cose della sua quotidianità, scherza tantissimo, stesso con i follower, ma anche con la sua famiglia. Quindi sembra veramente che in tv sia uno specchio della sua anima e di ciò che è realmente. Anche perché lei è molto vicina alle problematiche femminili. Insieme alla figlia, insomma, ha mandato avanti la battaglia sulla skin care, quindi sul mostrarsi per quello che si è, ma allo stesso tempo è stata vicina anche ad altre dinamiche femminili come la violenza sulle donne. Infatti, insomma, da questo punto di vista si è prodigata nei confronti delle stesse. Devo dire che le polemiche ci sono sempre, quindi, insomma, qualsiasi cosa si fa nella vita, qualsiasi percorso si sceglie, soprattutto quando si è donna si fa il doppio della fatica. Insomma, è statisticamente dimostrato, è stato anche un articolo pubblicato su alcuni degli editoriali più noti, che, insomma, attraverso un'immagine di scale mobili e di scale normali si mostrava il diverso percorso appunto della donna e dell'uomo. E questo dimostra poi anche il percorso di vita di ognuno di noi. Fatto sta che anche alcuni uomini però soffrono di questo stato di inferiorità, diciamo così, legato anche ai pregiudizi. Abbiamo menzionato nelle puntate precedenti anche Aksha, il ragazzo, insomma, che si era cambiato il colore degli occhi. Quindi oggi si punta molto sull'apparenza, piuttosto che sulla qualità e quindi sui contenuti. È verissimo, infatti, è anche vero che nel mondo attuale, soprattutto ovviamente dei social e della televisione nazionale, quindi ad altissimi livelli, ci siano ancora un po' troppi preconcetti. È vero che magari si sceglie la presentatrice, piuttosto che ancora l'idea collegata alla valletta, quindi che abbia una grandissima presenza scenica, ma magari come contenuti non sempre sono il top. E questo non fa altro che poi ampliare il tema del pregiudizio, perché ovviamente mettendo anche una ragazza alle prime armi davanti ad uno schermo e facendole indossare dei vestiti anche un po' più particolari, lei stessa si sente un po' privata e dunque trasformata in una sorta di oggetto. Quindi è sempre un'arma a doppio taglio essere delle belle donne nel mondo dello spettacolo, ma anche nella vita. È verissimo, Michelle Hunziker, poi, devo dire la verità, mai volgare, sempre particolarmente di classe. Mi piacciono tantissimo i suoi outfit, anche quelli delle prime serate, non è mai sopra le righe, mai una polemica, anche con questa famiglia allargata, possiamo dire, con il suo bellissimo compagno. Quindi sono veramente una bellissima coppia. E come hai detto anche tu prima, il bellissimo rapporto con sua figlia Aurora. Sono cresciute insieme, possiamo dire, perché davvero l'ha avuta giovanissima con Eros Ramazzotti e sono prima di tutto amiche, prima di essere poi mamma e figlia. E a differenza poi anche dei rapporti tra madre e padre, insomma, che abbiamo raccontato nelle puntate scorse, in questo caso non si è mai parlato di un gossip, di un ritorno di fiamma o di mancati rapporti civili tra Eros e Michelle. L'hanno sempre pensato al bene di Aurora e quindi questo ha permesso anche alla ragazza di crescere in un ambiente molto più sano e probabilmente anche di accettare in età adulta poi l'avvicinamento della madre e del padre ad altre persone. Aurora che si è resa protagonista proprio nella giornata di ieri di un post molto particolare sui social, per chi è andata a fare una corsetta, anche lei ha ereditato, il fisico statuario snello e alto, della madre e aveva semplicemente per il caldo, che ieri era una giornata veramente molto calda in tutta Italia, un pantaloncino sportivo e un top sportivo ed è stata riempita da commenti poco carini da parte di passanti che erano nei suoi pressi. Infatti approfittato di questo spiacevole episodio per porre alla luce la problematica del catcalling, quindi questi commenti offensivi dei passanti all'indirizzo di ragazzi, ovviamente più o meno giovani, sul loro modo di vestire, ma non solo, semplicemente ovviamente i commenti sgradevoli di quando passa una ragazza e viene puntata da determinate persone. Quello che noi viviamo quasi tutti i giorni, ma che ovviamente detto da un personaggio pubblico fa molto più eco, insomma, quindi da questo punto di vista permette anche di sollevare uno dei problemi più comuni al giorno d'oggi. Devo dire che il modo anche in cui vengono raccontate queste storie quotidiane, sia da Michelle che da Aurora, sono sicuramente d'esempio, perché non si lasciano andare a commenti sgradevoli, bensì raccontano semplicemente ciò che è accaduto, facendo tra le righe una denuncia che poi è comune tra tutti. Mi ha detto una cosa molto, molto saggia, secondo me è importante, perché molto spesso si pensa che quando una donna è vittima di questi episodi spiacevoli, sia perché ha indossato una gonna, sia perché si sia vestita in modo un po' più provocante, comunque non sarebbe assolutamente né un alibi, né una giustificazione, ma le ha tenuto a precisare che è proprio un costume sgradevole, di tante persone e tanti uomini, tanto è vero che lei era vestita da sport, stava facendo sport, quindi assolutamente era un'occasione normale, quindi evidentemente ho un modo di fare proprio insito di determinate persone, quindi ci ha tenuto ovviamente a precisare anche questo punto e soprattutto che ogni donna nel 2021 deve essere libera di vestirsi, di poter passeggiare tranquillamente in strada, senza essere molestata né con le parole né effettivamente. Diciamo che insomma dal punto di vista generazionale probabilmente questo passo si avrà tra qualche anno, perché oggi si parla di pari opportunità, però effettivamente le pari opportunità non ci sono, soprattutto c'è sempre questa differenza tra uomo e donna e anche i rapporti intimi che una donna ha con un uomo poi la disegnano in un determinato modo, quindi insomma c'è sempre questo scacco che non viene mai superato e viene fatto sempre nei confronti delle stesse donne. Abbiamo menzionato ieri sulla polemica di Belen, come lei avesse cambiato in continuazione gli uomini e quindi questo faceva di lei una donna, una ragazza facile. Avesse fatto invece un uomo, sarebbe stato etichettato come figo. Esatto. Non so se si possa dire figo in tv, ma lo diciamo ugualmente proprio per il discorso del 2021, ma credo di sì. Quindi insomma questo è un atti lover, ecco. Questi sono problemi che esistono, ma che rappresentano forse anche un tabù al giorno d'oggi, perché si pensa che nella società moderna queste cose non esistano, invece ci sono purtroppo e sono sempre dietro l'angolo. Io credo che molto debba partire, se non tutto, proprio dall'educazione che si dà ai propri figli, sin da piccoli subito nel rispetto delle donne, perché poi sono con quei valori che crescono e ovviamente sono con quei valori che devono portare avanti il proprio credo e i loro comportamenti. Quindi sin da piccoli ed educarli subito al rispetto delle donne, ad amare ovviamente le donne, alla sensibilità, all'empatia anche per il sesso opposto. Sì, anche perché insomma questo è la base di una crescita corretta, che purtroppo insomma oggi manca. Però insomma, speriamo nel futuro che qualcosa cambi realmente, non solo a livello ideologico. Lo speriamo davvero. Cambiamo argomento, parliamo questa volta di talent, di musica, ovviamente di Queen Mary, che è immancabile poiché c'è stata qualche polemica per quanto riguarda l'ultimo ragazzo che è stato eliminato proprio dal noto talent del sabato sera di Maria De Filippi, si chiama Leonardo Lamacchia, un bravissimo cantante che poi era tra i favoriti della vittoria finale, però sta succedendo un po' di tutto con queste eliminazioni, possiamo dire. e la cosa particolare è stata che nella giornata di ieri è arrivato un messaggio di incoraggiamento molto molto particolare da un noto big, possiamo dire, uno che ce l'ha fatta nel panorama musicale italiano e non solo e parliamo di Ermal Meta. Infatti Ermal ha svelato soltanto dopo l'eliminazione del ragazzo che in realtà sono grandi amici, che gli lega una profonda stima musicale ma anche personale, soprattutto l'ha voluto incoraggiare, gli ha detto che non meritasse assolutamente l'eliminazione, di essere ostinato e continuare a provare a sfondare nel mondo della musica e poi non era tanto un novellino, ha partecipato anche a Saremo Giovani, quindi è un ragazzo non alla prima esperienza nel talent di Maria De Filippi, ma soprattutto ci ha tenuto a precisare, ti ho scritto oggi dopo l'eliminazione, perché non volevo che il solito mondo dei social cattivo dicesse che in realtà sei lì per raccomandazione, per conoscenze, quindi sono uscito allo scoperto soltanto in un secondo momento quando ormai l'amicizia era ininfluente, possiamo dire. Diciamo che Leonardo all'interno del programma era il più anziano tra i ragazzi, quindi anche questo ha favorito la visione di Leonardo come un punto di riferimento per molti e sono state importanti anche le parole che ha detto prima di uscire, perché effettivamente dispiace uscire, però quella è una vitrina, come ha detto anche Maria De Filippi, e quindi prima o poi il programma finirà, ci sarà un unico vincitore, è semplicemente un gioco, però è ovvio che insomma all'interno di un reality come questo si creano poi delle dinamiche e la quotidianità diventa quella. Su Ermalmete insomma ha fatto discutere anche il post di ieri perché nessuno era a conoscenza di questo rapporto, però effettivamente insomma i due sono amici da tanti tanti anni e condividono anche gli stessi gusti musicali, quindi chissà, magari tra qualche mese riusciremo ad avere un duetto tra i due. Eh sì, una collaborazione poi ovviamente messo sempre dopo questo post che lo stesso Leonardo apre tutti i concerti di Ermalmete, quindi comunque ha una certa esperienza alle spalle, ma soprattutto ha una grande fiducia, una grande stima, come abbiamo detto anche precedentemente, musicale da parte ovviamente di Ermal. Come dicevi tu, giustamente, per molti, soprattutto negli scorsi anni, i talent sono stati visti in parte un po' come una scorciatoia. Invece, come giustamente ha detto Maria De Filippi, deve essere soltanto un trampolino di lancio per farsi conoscere, per capire bene anche i meccanismi dello show business, come funzionano tante cose anche riguardanti le etichette discografiche, quindi deve essere semplicemente quella molla in più, quella spinta in più, ma non una scorciatoia perché la gavetta resta importante anche nel mondo della musica. Sì, infatti, solo chi ci crede, insomma, va avanti. Abbiamo visto delle meteore dal programma di Maria, e devo dire che invece chi stupisce sempre di più sono i ballerini, perché effettivamente quando termina il programma inizia il loro percorso di vita. Abbiamo visto Elena, insomma, che è diventata una delle professioniste dello show business, però invece dal punto di vista dei cantanti sono pochi quelli lì che insomma sono ancora ricordati, Annalisa, Erama, Emma, Alessandra, quindi insomma sono solo pochi i personaggi che effettivamente ce la fanno, ma solo perché hanno la volontà. E sì, hanno poi anche qualche tratto distintivo particolare rispetto agli altri. Noi ci fermiamo per il solito break pubblicitario e ritorniamo a Gossip Mania tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notix, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it Eccoci qui, ben ritrovati. Stavamo amabilmente chiacchierando come ogni pomeriggio, anche per tutta questa settimana vi terremo compagnia. Stavamo parlando di talent, di amicizie particolari, ma anche di amori e continuiamo proprio su questa falsa riga perché anche in questo caso possiamo dire ve l'avevamo detto cosa importante poiché qualcosa era sicuramente nell'aria già dallo scorso dicembre ma cari amici, gossipari, sembra ci sia stato un riavvicinamento e qua ritorniamo anche al primo argomento visto che l'abbiamo nominato quindi è tutto un intreccio oggi tra Eros Ramazzotti e la sua ex Marika Pellegrinelli. Questa volta me lo sono ricordato l'ho scritto però me lo sono ricordato finalmente. Due figli, una storia d'amore molto bella culminata in questo matrimonio con un vestito bellissimo con delle note musicali della canzone d'amore di Eros super mega romantico, una favola e poi questa separazione da due anni e mezzo. C'erano stati già dei rumors dei quali avevamo parlato anche un'intervista molto lunga della stessa Marika che si era lamentata ma aveva anche spiegato i motivi di questo distacco con Eros Ramazzotti e invece c'è chi giura che adesso sono inseparabili, sono sempre insieme e stanno cercando di recuperare il rapporto soprattutto per i figli. Questo insomma fa loro onore perché quando si ha una famiglia e già nel caso di Eros insomma allargata è importante anche creare delle dinamiche familiari che possano anche aiutare una convivenza civile e pacifica. Diciamo che quando si rompe finisce un rapporto insomma c'è sempre un po' di odio un po' di rabbia e invece forse col passare del tempo si matura e si passa ad una fase successiva cioè quella di voler aggiustare le cose è una tematica che era propria delle generazioni insomma un po' più vintage ma che oggi... Ora quando si rompe qualcosa si butta perché tanto c'è il rimpiazzo ma non sarà mai come il primo? Non sarà mai come il primo e soprattutto poi ci si porta consigli strascichi di una relazione che non si è ancora somatizzata quindi insomma bisogna stare attenti. Il passare del tempo aiuta sempre perché permette anche di ragionare a mente fredda e soprattutto anche dopo le dichiarazioni che lei ha rilasciato sull'effettiva storia probabilmente Eros Ramazzotti ha compreso i reali motivi e la difficoltà anche da parte della compagna insomma nel vivere questo rapporto a distanza. Sì sicuramente con questo rasso di tempo avrà metabolizzato anche i motivi della rottura poi sono cose personali ovviamente che non conosciamo a fondo ma come abbiamo detto è stata una storia d'amore veramente lunga e c'era stato già questo riavvicinamento a dicembre categoricamente smentito proprio da Marica fatto sta che poi dopo l'intervista forse qualcosa si sarà smosso perché ovviamente si faceva riferimento all'assenza di Eros per questi lunghi tour diceva giustamente sì belli tour però praticamente vivevo da sola con i figli non avevo un supporto per niente nella mia vita quotidiana e mi è mancata questa parte di Eros quindi magari anche un piccolo suggerimento a cercare proprio di sistemare quella parte del rapporto che non funzionava il problema è che adesso non essendoci concerti è anche più facile ma la vita di Eros Ramazzotti è questa insomma quindi non si può chiedere di stravolgerlo non si può chiedere di stravolgere la vita di un artista soprattutto perché insomma quello è il modo in cui lui si è presentato e lei lo ha conosciuto quindi insomma bisognerebbe accettare un pochino tutto e cercare di trovare insieme un equilibrio perché magari lei potrebbe anche raggiungerlo insomma ci potrebbero essere dei meccanismi da utilizzare però deve esserci la volontà di entrambe le parti perché ovviamente non può fare tutto lei e non può fare tutto lui anche perché lei fa parte del mondo dello spettacolo ha fatto qualcosa anche in passato quindi dovrebbe conoscere anche queste dinamiche diciamo che dovrebbe essere già avviata a questo percorso però ha fatto senso che quando si diventa madri è necessaria comunque la presenza del padre vicino ai figli quindi al di là insomma delle problematiche coniugali sicuramente un padre deve essere presente nella vita dei figli per non perdersi nessun passaggio fondamentale della loro crescita ma come dicevi giustamente tu effettivamente in questo periodo anche gli artisti i cantanti lavorano di meno hanno meno possibilità di spostarsi soprattutto se non hanno dischi o singoli in uscita in cantiere però forse proprio questo momento della pandemia fa riflettere molto sul presente e sul passato e soprattutto sui rapporti perché abbiamo visto tante coppie che non solo sono scoppiate ma anche altre che stanno cercando di risolvere le loro problematiche che sono ritornate poi sui propri passi sì stiamo vivendo il percorso degli isolani dell'isola dei famosi solo che insomma siamo vestiti e non stiamo al sole diciamo che dal punto di vista insomma ideologico l'idea è questa la pandemia ci aiuta a ragionare ci aiuta a capire che cosa vogliamo e cosa non vogliamo però è facile insomma avere delle mancanze in questo periodo perché sicuramente ci manca la nostra vecchia vita ci manca anche prendere un semplice caffè al bar con gli amici quindi bisogna stare attenti e cercare di capire se quello che si prova in questo periodo è effettivamente quello che si vuole o è dettato dal momento eh sì figlio del momento quindi mi raccomando amici a casa riflettete anche su questo ultimo argomento ma non meno importante parliamo di Gianni Morandi infatti il cantautore nazionale ma non solo è stato vittima di un brutto incidente domestico possiamo dire presso la sua tenuta di campagna già nelle scorse settimane ma è veramente una forza della natura nonostante fosse tutto ostionato con ferite sulle gambe le mani completamente fasciate si è visto sempre sorridente in ospedale prima a Bologna e poi a Cesena a cantare e parlare con gli infermieri sulle note di ragazzo fortunato di giovanotti con questi video uno degli ultimi video e foto anche domenica in occasione della domenica delle palme con questa palma mantenuta con queste manone fasciate ma è veramente fantastica e soprattutto dà dei messaggi di forza veramente unici anche in questo momento di pandemia molto molto delicato si anche perché lui devo dire la verità è sempre stato la persona che incoraggiava gli altri è stato di rado che l'abbiamo visto in situazioni particolari e molto spesso insomma tutto quello che accadeva nella sua vita l'abbiamo saputo per insomma per voci di corridoio fatto sta che sicuramente la sofferenza legata a questo incidente di percorso in questo periodo ha permesso anche a Gianni Morandi insomma di mandare dei messaggi motivazionali nei confronti anche di tutti coloro che erano in ospedale quindi sicuramente insomma detto da un personaggio come lui fa effetto proprio delle ultime ore la notizia anche della malattia insomma della moglie che a quanto pare è stata colpita dal covid quindi insomma è un periodo un po' particolare per Gianni e la sua famiglia che però insomma prendono tutto alla leggera perché sanno che insomma la vita è così e sì anche perché ovviamente la reazione è sempre la parte più importante di quando succede qualcosa di inaspettato e ovviamente anche brutto e sa benissimo anche di essere stato effettivamente un ragazzo fortunato poiché cadendo in una maniera diversa in quell'incendio di sterpaio ovviamente la situazione poteva essere molto più grave invece fortunatamente l'è riuscita a gestire anche con il pronto intervento ovviamente dell'ambulanza e il grandissimo lavoro di tutta l'equipo medica ma è veramente bello poi vederlo sempre con il sorriso nonostante non sia più giovanissimo però si tiene veramente con questo grande ottimismo e con questa fiammella viva della gioventù sempre all'interno sì devo dire che lui soprattutto utilizza molto i social perché ha capito che sono un mezzo fondamentale per comunicare con i ragazzi e questo insomma gli fa onore perché al di là insomma delle canzoni fa sì che i ragazzi partecipino effettivamente alla sua giornata quindi rispondi ad ogni singolo commento che viene fatto è sicuramente una presenza molto importante per i giovani oggi e devo dire che non me l'aspettavo perché sai insomma a livello generazionale siamo un po' distanti però a quanto pare insomma è riuscito a trovare il punto debole dei ragazzi e a farli anche divertire attraverso storielle quotidiane e canzoni sì questo è simpaticissimo con i sondaggi effettivamente si rivolge sempre al pubblico non solo i più giovani ma anche coloro che lo seguono da sempre quindi ha ben chiaro il ruolo dei social e come debbano anche essere usati in maniera corretta gli stessi social proprio ieri con un amico parlavo dell'influenza negativa di tutti questi social network molto spesso e di determinati personaggi soprattutto questi influencer che ovviamente in questo periodo di noia siamo in casa quindi capita spesso di scorrere la home però quando se ne fa proprio un mantra di vita ovviamente la situazione poi degenera sì anche perché oggi insomma tutti utilizzano i social per stupidaggini quando in realtà insomma bisognerebbe forse capire che tutto ciò che si mostra in questo periodo poi resta quindi ritorniamo alle solite minacce che ci sono poi sul web e anche a trasformazioni poi di persone perché io ultimamente sto vedendo sui social persone che pensavo fossero in un modo ma in realtà sono tutt'altro viene fuori la vera natura delle persone che molto spesso strumentalizzano i social utilizzando anche TikTok mostrandosi anche in vesti un pochino particolari quindi insomma mi trovo anche un pochino confusa perché non riesco a capire quali delle due persone conosco e sì perché ormai poi si pensa che effettivamente l'unico modo per accogliere il consenso generale sui social in particolare al modo TikTok che poi è un mondo a parte dovremmo fare una puntata solo per quello praticamente utilizzato dai più giovani utilizzato dai meno giovani perché poi c'è differenza e pensano che ovviamente per avere successo su questi social network l'unico modo è mostrarsi in una determinata maniera scimmiottando anche un po' le persone i personaggi più famosi che lo fanno ma ovviamente con un riscontro poi totalmente diverso sì anche perché insomma ritorniamo al primo argomento cioè quello che la bellezza insomma domina un pochino tutto nella vita quotidiana però non basta e soprattutto non fa la differenza devo dire che invece da questo punto di vista soprattutto nell'anno della pandemia insomma i social sono stati poi utilizzati da alcuni professori in maniera positiva quindi insomma questo ha aiutato anche a creare una vita parallela un livello parallelo dei social che le ha permesso loro insomma anche di essere un po' più apprezzati dai giovani non soltanto come mezzo per mostrarsi in desabiliere ecco è verissimo faremo una puntata esclusivamente per parlare dei social network e di tutto quello che vi gravita intorno magari anche dell'utilizzo dei personaggi famosi perché poi ognuno ha una linea diversa di pensiero quindi anche questo è molto importante noi intanto siamo in chiusura grazie mille Elvira Vigliano grazie Alessia ci vediamo domani ore 18.30 con Gossip Mania buon poveriggio